Io vi presento l'ultima canzone, questo è l'ultimo intervento, ma le canzoni ce ne saranno altre tre, per cui vi presento l'ultima in questo film tipo, poi vi lascio alla magia che ha le note che è Diego. La prossima canzone si titola Last to die, l'ultimo intervento, una persona di successo che vede scredolarsi le proprie certezze una dopo l'altra, riflettori, applausi, sogni, sesso, bella tumore, voglia di libertà, una vera fraccola montare, la bella invece, i sogni finiscono, i riflettori si speglono, si applausi, si scrivono, testa un aspetto che non verrà mai usato per la verità. Questa è Last to die, questa è la vita che si riprende con gli interessi, con le cose. Last to die, dico per cui. Questa è la vita che si riprende con gli interessi, con le cose. Questa è la vita che si riprende con gli interessi, con le cose. Questa è la vita che si riprende con gli interessi, con le cose. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.